Tocca a druido, non so se è questa la lista giusta, no non è questa, l'avevo vista da qua Proviamo sto druido come va Praticamente un'eclisse solare per sdoppiarti a manetta gli 8-8 Quali sono gli 8-8? Boh questa è una specie di aggro dove c'hai tipo tiri tutto, poi c'è il Cornelius che pesca Boh non hai idea di come funziona sto mazzo, non hai la verità Però non credo di chi pare queste Cioè la Pantera è figa ma abbiamo la carta che andava a pescare, non la sto a kippare la Pantera Invece era da kippare La Pantera Boh Devo fare Blossom Pantera E qua era fortissima E questo tocca Rush Warrior Eh la Pantera è must Qua non so se ci sta a fare armor up in realtà, forse è stata un po' una cazzata Magari mi sa che era meglio giocare la bestia di Vimini Eh perché effettivamente quel threat è questo Sembra un mazzaccio comunque questo che stiamo giocando E sai devo farci la reward Wow Nice combo con Rokara Allora sotto ne abbiamo 8 Sopra ne abbiamo di meno Incredibile sta combo Leggendaria Oddio Minchia Sta mossa che abbiamo fatto è mica male Ma c'è Cornelius Si pesca Oh se hai mano a 4-5 Pesco 2 Non è stato male qua Ciao Antonio Oh penso si riesca Far legend con mage No No l'unica carta che non dovevo pescare Ah però questa è un'altra bestia Ok ok Allora Ottie Insettà con il tuo ricompensa Goof il tenace Oh vabbè Questa ci sta Non capisco il senso di fare questa con la quest Vi stavo ascoltando ma non sto capendo È un minion il pezzo Come faccio a fare quella quest Se vado face Vado a 14 Qua ci sono 8-12 Un bel po' Però vabbè Trado Sto giro Ah ok Per sdoppiare il pezzo finale Ok ho capito cosa intendete Quella che dà più 2-2 Il marchio Ok ok Allora lui comunque dà Più 8 attacco Quindi è lethal Minchia forte sto deck Quanto smorca 35 Sì in pratica Se fai la spell a 2 Sul Goof Te ne dà altri 2 Console Eclipse E quindi io sono altri 16 danni Malfurion Contro Jaina L'hai voluto Sì Vogliamo Allora bisogna capire cosa bisogna equipare Flor Mulligan Perché Io non credo di voler equipare Pounce Non so se invece vogliamo equipare Rabbiaferina In teoria voglio fare Fungal Fortuns E Gas the Weight Come tutti i druidi Che esistono O al limite pescare Xie Rush Posso fare i Clissi Pounce Che brutto però Che brutto Pischiamo Boh Giochiamo Pounce qua Tanto Faccio capire Effettivamente Potevo aspettare A far Pounce Magari Deve essere Effettivamente Potevo rimuoverlo 1-3 Si ha sbagliato Pesco una carta Se no ho capito I main E' ritornato a giocare Con il suo Mage bidone Meta minion Meta spell Non sto pescando niente Io poi In questo game qua Oh nice Quindi Ecclissi Amuleto Pusso 16 Pusso 8 In faccia Merda ragazzi Bo Allora Comunque fa schifo Il weaker claw Quello che si piglia Attacco Fa super Merda Non so Quindi la lista Non è la migliore Questa qui Dobbiamo pescare il marchio Marchio Facciamo lui Marco Questa qua Marchio Facciamo la vostra combo Che dicevate prima Just wait Adesso anche Che me lo millerò Come faccio a sdoppiarlo Questo ora Non ho il modo Lo gioco così Se no faccio questa E pesco Milandomi La pantera Bo Se no passo Faccio solo hero power Tanto non dopo Se tiro questa Faccio solo hero power Minchia Milarsi la pantera Triste Vai Peschiamoci il mazzo Vaffanculo Non posso Non posso Mi sarei Sei male Non sembra male Comunque il mazzo Di Chesi Sto Sto Sanctum Chandler Non sembra terribile 5 ma 4 cibo E quando tira una spell Del fuoco Pesca una carta E questo Deo che è del fuoco La pantera va pescata Nessuno si prende Cercavate una candela Eh non gioca ad evolving 11-3-little Oh Dio ma smorca un botto sto mazzo Allora bisogna un attimo capire Bisogna un attimo capire una cosa Questo qui Fa schifo No? Non credo che abbia una gran sinergia col mazzo Sta bestia di Vimini Quindi l'idea è che potrebbe tranquillamente saltare sta carta Se salta questo Possono entrare le Glowfly E Arborap Bisognerebbe però mettere Togliere Cornelius E le due bestie di Vimini Due Glowfly Un Arborap Ci vuole anche la seconda di Arborap però E basta Semivivente ti pesca sempre la Pantera Le tizie del culto 3-2 in Druido Direi proprio di no Direi proprio di no Allora il tizio che avevo beccato Infatti se non sbaglio aveva fatto questa modifica qua Adesso vado a ricontrollare il replay Ma se non sbaglio aveva fatto questa modifica Aveva tolto Roam che Vabbè Noi abbiamo giocato Non è stato male Perché in realtà sto mazzo non è che pesca Così ta Beh in realtà Ha gli stessi engine che ha l'altro mazzo Fungal Fortune con due minion Se togliamo questi qua Eh bisogna togliere i minion dai Non so se ci sta la Pantera Ma è sbloccata La Pantera probabilmente va tenuta E quindi mettere dentro Shame Però fai Shame non fai armor Se fai Shame ci sta lo stesso In teoria Tanto anche se fai l'1-4 non fai armor Quindi giochiamo allo Shame E Arborap è sicuro Bisognerebbe mettere anche il secondo Arborap Non so al posto di cosa Forse al posto di un seme Visto che adesso abbiamo due Solo due bestie Una cosa del genere forse Facciamo così Non si possono togliere anche i Belossom Così mi piace Però è così Ora peschi poco Beh ho tolto un drop a 6 Che veniva scartato da Fungal Fortune Fungal Fortune Due minion bruttissimi 1-4 E di conseguenza ho tolto anche la costo 2 I peschini che ho customato Sono gli stessi che giocavamo anche in Anacondra E di conseguenza ho tolto anche la costo di un seme